Allora, sono qui nell'ufficio del Sindaco di Belgioioso, insieme a tantissime maestre, diciamo i referenti del Comune, e volevo chiedere al Sindaco, visto che oggi è nata la pagina Facebook dell'Istituto Comprensivo Belgioioso, due parole su questa notizia. Che cosa pensa, cosa si aspetta dalla nuova pagina Facebook del nostro istituto? Sicuramente sarà una cosa incredibilmente glamour, mettiamola così, perché se è stata fatta dalle maestre, dalle professoresse dell'Istituto Comprensivo, che sono brevissime, come sappiamo tutti, sarà e diventerà sempre una pagina più comunicativa per tenere in contatto i ragazzi, le famiglie, e la scuola, e sarà sia uno strumento per dare informazioni, sia io penso anche uno strumento di socializzazione per rimanere in contatto in momenti così complicati come quelli che abbiamo vissuto e che auspichiamo vengono superati dal prossimo settembre. Ciao a tutti dal prossimo settembre, promettiamo scuola in presenza, finalmente. Ciao ciao! Ed ecco ne allora due di queste nostre insegnanti glamour su Facebook. Allora, adesso intervistiamo una delle amministratrici della nostra nuova pagina Facebook, la professoressa Valentina Bacci, e le chiediamo quindi che cosa si aspetta da questa pagina Facebook dell'Istituto Comprensivo Belgioioso. Buongiorno, buongiorno a tutti, cosa mi aspetto? Mi aspetto uno strumento ricco di tante informazioni, dove tutti possano vedere quello che viene svolto all'interno del nostro istituto comprensivo, un sacco di cose che finora abbiamo un po' tenuto nascoste, ma che vogliamo aprire a tutti, e poi anche uno strumento di informazione per corsi, per varie attività, anche extracurriculari, che possono essere magari importanti per i ragazzi, per i genitori, un punto di riferimento, vorrei che diventasse il nostro punto di riferimento dell'Istituto Comprensivo. Eh, che ne dite? Oggi, 1 luglio 2020, nasce la pagina Facebook della nostra scuola, l'Istituto Comprensivo Belgioioso, in provincia di Pavia. Proviamo a chiedere alla nostra vicepreside, professoressa Sabrina Ghiadoni, cosa si aspetta da questa pagina Facebook. Sicuramente è un mezzo di divulgazione che raggiungerà gli studenti e le famiglie, che ci permetterà di far conoscere la nostra realtà scolastica e di dare finalmente una degna vetrina a tutte quelle iniziative che ogni giorno vengono messe in atto da tutti gli ordini di scuola di cui noi, di cui facciamo parte. Eh, cosa dite? Avere una vicepreside così in gamba? Grazie! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.